You can see You can see La valigia per chiudere Andrei Allora Questo è il tipico dramma Cazzo fiori Figliati puttana Tutti si chiedono sempre Come mai si parte con una valigia E si torna a condigüe Brutta Questo è il camasutra della valigia No, no, no No, no Aia, mi sa che ho fatto male col trappone E guardate l'effetto ostile Ci saranno due chiara adesso Due chiara